Sono 1776 le imprese del Friuli Venezia Giulia che si trovano a rischio usura. Dopo anni di calo, rispetto a un anno fa, il numero complessivo di queste realtà è cresciuto di 72 unità, ovvero il 4,2%. Si tratta prevalentemente di artigiani, esercenti, commercianti o piccoli imprenditori che sono scivolati nell'area dell'insolvenza e conseguentemente sono stati segnalati dagli intermediari finanziari alla centrale dei rischi della Banca d'Italia. Di fatto, questa schedatura preclude a queste attività di accedere al nuovo prestito. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Torna all'ospetto dell'usura. Non potendo più accedere per legge al mercato del credito legale, queste aziende o sono costrette a chiudere o, peggio ancora, finiscono nella rete tesa dalle organizzazioni criminali che vogliono impossessarsene con l'inganno. Per contrastare questa piaga sociale ed economica bisogna ridare liquidità alle piccole e medie imprese e aumentare le risorse a disposizione del Fondo di Prevenzione contro l'usura. In Friuli, Venezia e Giulia, la situazione più critica riguarda Udine, con 854 attività segnalate alla centrale dei rischi. Seguono Pordenone con 425, Trieste con 267 e Gorizia con 230. Rispetto all'ultimo anno, invece, l'incremento percentuale più importante ha interessato Trieste col più 11,3%. Seguono Pordenone con il 5,7% e Udine con il 3,6%. Solo a Gorizia si è registrata una contrazione pari al 3,4%.